Passerei adesso al prossimo intervento che è dell'ingegnere Nino che ci parlerà di intelligenza artificiale ovviamente. Passo subito la parola così. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, sì, parliamo di cyber security legato al mondo del machine learning. Allora, pericolo permesso, io mi occupo di lavorare in un'azienda che si chiama Idealarm LTD e ci occupiamo dei sistemi di sicurezza. In realtà noi ci occupiamo dei sistemi di sicurezza fisica, cioè ad esempio analizziamo i streaming video per identificare anomalie, piuttosto che, ad esempio, se noi possiamo identificare ad esempio in una piazza due persone stanno litigando e quindi dare immediatamente un feedback alle forze dell'ordine e quindi far partire un soccorso. Questo è il tipo di core business che abbiamo. Non ci occupiamo specificamente di cyber security, tuttavia alcune applicazioni che abbiamo fatto ci hanno portato a poter sviluppare questo tipo di cose. Allora, in particolare qui vediamo come, appunto parlando con l'organizzazione, si cercava di dare un esempio concreto su qualcosa di facilmente realizzabile e quindi abbiamo pensato di fare questo tipo di esempio. In un attimo devo prendere il telecomando, che è qui. Quindi come riuscire a creare tramite un Raspberry, che è qualcosa di molto economico, molto piccolo e anche, se vogliamo, con delle capacità di calcolo non eccessivamente elevate, come riuscire a creare una sentinella che possa verificare se, ad esempio, nella nostra rete locale, che può essere una piccola rete, anche una rete aziendale di piccole dimensioni, come riuscire a verificare se c'è un potenziale attacco hacker. Allora, intanto vediamo un attimo la panoramica delle single board computer. Come sapete, il Raspberry fa parte della famiglia dei single board computer, cioè sono quei computer formato carta di credito che hanno tutto lì all'interno, tutto ciò che serve per poter fare elaborazione e produrre degli output. Ecco, sicuramente se lo vogliamo usare, le single board computer, per il machine learning, dobbiamo cercare di dotarci quantomeno di single board computer che abbiano delle buone caratteristiche. Sicuramente quello che ci serve è la capacità di calcolo, perché machine learning equivale alla capacità di calcolo. E siccome spesso la capacità di calcolo è legata all'ambito delle GPU, o TPU vedi Google, avere qualche single board computer che possa avere a bordo già anche una GPU utilizzabile sarebbe fantastico. Purtroppo la Raspberry non ha una GPU compatibile con i maggiori tool che ci sono attualmente in circolazione, che fanno uso di GPU. Allora, la GPU del Raspberry è qualcosa di proprietario. Ci sono delle tecniche per poter cercare di usarle per il machine learning. In altre occasioni ho fatto vedere, ovviamente in altri contesti che si può fare, però se volete potete trovare in rete qualche video che lo spiega. Nel nostro caso ovviamente no, però vedremo come risolvere lo stesso problema. Ovviamente un altro problema è la possibilità di utilizzare le librerie, i famosi tool che abbiamo, oppure se vogliamo i framework, più famosi. Sarebbe fantastico poter usare per esempio PyTorch oppure TensorFlow su Raspberry. In realtà si vede che il TensorFlow c'è la possibilità, perché Google ha sviluppato il TensorFlow Lite che può girare su Raspberry e già permette di far tanto. PyTorch ci abbiamo provato tantissime volte, non siamo mai riusciti a farlo girare su Raspberry. Se qualcuno di voi invece conosce qualche metodo per farlo girare ne saremmo lieti. Altra questione è interfaccia ad alto livello. Ovviamente noi possiamo fare machine learning teoricamente anche con Arduino, se vogliamo, anche se le capacità di calcolo sono ancora inferiori, però quello che ci serve più di tutti in quanto progettisti di machine learning è avere dell'interfaccia ad alto livello, quindi avere degli IDE e dei sistemi di debug più ad alto livello. Quindi se avessimo solamente un compilatore C si può fare lo stesso, ma la vita sarebbe molto più dura, quindi cerchiamo di dotarci di sistemi più adeguati. Uno dei problemi principali, inoltre, delle single board computer legate al machine learning è proprio il fatto che dobbiamo avere delle interfacce di comunicazione adeguate. Raspberry non è particolarmente famoso per le sue capacità di comunicazione, cioè parlo in termini di rete e di porta USB, anche se ora con la versione 4 la porta USB l'hanno portata alla USB 3 e che è già di tutto rispetto. E inoltre deve avere stabilità termica perché se noi mettiamo a fare un grosso molle di lavoro e il Raspberry poi si surriscalda e si blocca oppure dimezza o divide per 4 le capacità del processore, è chiaro che non abbiamo poi ottenuto grandi risultati. Questo è ciò che ha permesso la creazione dei single board computer, cioè prima ancora dei single board computer la tecnologia realmente che ha innovato è il sistema on chip, cioè la possibilità di mettere dentro un chip tutto ciò che serve per far girare un computer in miniatura. Quindi all'interno del chip c'è non solo il processore ma c'è anche la GPU per esempio e ci sono tutte le interfacce che servono per collegarsi verso il mondo esterno, a meno che di piccoli componenti da aggiungere, come i connettori o qualche altro leggero chip aggiuntivo, però tutto è qui dentro. Scusate, i mali di stagione si fanno sentire. Come dicevo, in realtà i grandi player hanno avuto un'intuizione, hanno detto, bene ma visto che il machine learning è qualcosa di molto sentito, in questo momento dell'argomento topic, perché non realizziamo dell'hardware specifico per il machine learning? I primi ad averci pensato sono stati, almeno tra i primi comunque, sono stati quelli della Intel che hanno sviluppato il Movidus, che è un dongle USB che si può inserire in qualunque macchina voi abbiate e lui sostanzialmente ha la tecnologia per eseguire calcoli matriciali ad alte prestazioni. Loro lo chiamano, lo chiamano, scusate, no, quello è TPU, quello è di Google, che è TPU, TPU, Tensor Process Unit, questo è VPU, ecco, non mi ricordavo la cosa, è Vector Processor Unit, ed è la tecnologia che hanno inserito qua dentro. Sono stati tra i primi a introdurre questa tecnologia, purtroppo hanno pagato un po' lo scotto di essere ancora troppo in anticipo, infatti i loro tool per la programmazione erano ancora un po' troppo acerbi, c'era poca community dietro, e quindi il prodotto ha avuto un po' di fatica a prendere piede. Costa intorno ai 100 dollari, che è un prezzo assolutamente accettabile, però nel frattempo anche gli altri player hanno introdotto il loro hardware, infatti li vediamo qui. Google Core al TPU è una delle, diciamo, novità, da parte dell'ultimo anno, anno e mezzo, che hanno introdotto questa, che è la loro single board computer, un po' un'alternativa a Raspberry, che però ha il grande vantaggio di avere all'interno una TPU, una Tensor Processor Unit, che è proprio, e sarebbe la GPU di Google, che dà delle prestazioni molto elevate in ambito machine learning. Quindi voi vi portate a casa, con questo oggettino che costa circa 100 dollari, vi portate a casa una capacità di calcolo, per poter fare anche elaborazione video ad alta definizione in tempo reale, che, cioè, quindi il riconoscimento di immagini su video, che è qualcosa di molto interessante. Esiste anche la variante d'angolo USB, che questo vi permette di poterla collegare anche al vostro PC, quindi se ad esempio il vostro PC non ha una scheda grafica, o una GPU ad alte prestazioni, con questa potete comunque fare del calcolo avanzato. Ovviamente quello che potete fare è anche usarlo con Raspberry. Quindi voi potete usare il Raspberry e potete attaccare il vostro bel Google, il Coral, e quindi riuscire ad avere delle prestazioni notualmente superiori. La domanda è, sono compatibili questi due? Qua stiamo parlando, per esempio, di queste cose, stiamo prendendo in considerazione il Raspberry 3. Sì, sono compatibili, ma il Raspberry 3 ha la USB 2.0, mentre invece la Coral va con l'USB 3. Questo cosa vuol dire? Che non potrete usare il Coral a prestazioni massime, perché ovviamente quello che importa è quanto rapidamente riuscite a mandare dentro dati e ottenere le risposte calcolate in uscita. Quindi se ovviamente avete un canale che fa da quello di bottiglia, anche il Coral andrà molto più lentamente. Fortunatamente il Raspberry 4 risolve questo problema perché hanno introdotto la USB 3.0 e quindi in questo caso si ha un full match di prestazioni e allora qui si riescono ad avere delle ottime performance. Tra l'altro il processore che ha il Raspberry 4 è circa 4 volte più potente rispetto al 3. rispetto al 3B+. E quindi questo vi permette di avere complessivamente delle performance molto interessanti e delle applicazioni veramente utili. Però esistono anche altri player. Per esempio l'NVIDIA, che è quella che proprio ha inventato il CUDA, che è l'ambiente di programmazione attualmente più utilizzato in ambito machine learning per quanto riguarda il calcolo. E quindi cosa succede? Per esempio se voi siete su PyTorch o su TensorFlow, basta abilitare la funzione CUDA e già in automatico sfruttate tutti i calcoli che vengono passati sulla GPU. E questo è ovviamente fantastico perché lavorate molto poco ma avete delle prestazioni molto più importanti. La possibilità di avere una single board computer come questa che già utilizzi il CUDA vi permette ovviamente di lavorare con delle capacità di calcolo di tutto rispetto. Inoltre questa scheda che è Linux-based a tutti gli effetti supporta anche PyTorch e TensorFlow. Ovviamente loro hanno fatto anche quest'altra versione che è proprio più simile a una single board computer con tutto l'hardware già messo dentro quindi non avete bisogno di connettori esterni. E quindi con questo installate e avete voglia di lavorare. Ovviamente quando progettiamo sistemi di machine learning il problema principale è osservare i dati. Qualunque non si parte mai solitamente il classico novellino dell'ambito machine learning inizia pensando di dover subito fare la rete numerale o fare l'algoritmo. In realtà no. Si inizia dai dati, si osservano i dati, si cerca di capire quali sono le relazioni che hanno questi dati, dove vogliamo arrivare, qual è l'informazione che vogliamo estrarre. E solo allora si va a ragionare sull'algoritmo più idoneo. Perché il problema principale è che i dati tra loro non sono mai, nel mondo reale, non sono mai facilmente intuibili. Spesso sono dati molto complessi e spesso ci sono delle correlazioni tra i dati, tra loro. Questo vuol dire che i dati hanno all'interno altri dati, cioè i dati nascondono altri dati che non sono inizialmente facili da comprendere. E allora noi desideriamo che il nostro sistema riesca a estrarre questi dati che sono nascosti nei dati stessi. Quindi questa è il vero, diciamo, la vera difficoltà, ecco, di un bravo progettista di sistemi di machine learning. Per esempio, entriamo un pochino più nel nostro environment, quindi consideriamo la classica rete, la small business network, dove abbiamo magari dei computer che sono collegati a uno switch, magari un server, magari anche una stampante condivisa, e poi un router e internet. Ora, il problema di fondo è cosa facciamo, come facciamo noi a usare, in questo caso, un Raspberry per cercare di capire cosa sta avendo qui dal punto di vista dei potenziali attacchi. Allora, un metodo potrebbe essere cercare di metterci qui, cioè quindi cercare di catturare tutto il traffico in input e output e valutare da questo potenziali rischi. Ovviamente stiamo parlando, in questo caso, è qualcosa di molto complesso, perché i dati che vediamo come streaming in input e in output sono una cozzaia di informazioni non ben organizzate, e quindi andare a lavorare lì è sicuramente molto complicato. a parte i problemi criptografici e cos'è, ma al di là di quello, anche se volessimo basarci solamente sulla mole di dati, lì sarebbe veramente molto complesso. Oltretutto, il Raspberry, che non è appunto certo un velocissimo per quanto riguarda proprio le comunicazioni di rete, diventerebbe poi un pochino un collo di bottiglia, quindi difficilmente riusciremmo a gestirlo al meglio. Un approccio potrebbe essere questo, cioè mettere il Raspberry collegato allo switch come se fosse un nodo normale della rete e cercare di trovare qualche metodo che possa permetterci di far giungere qui delle informazioni. Bene, quello che abbiamo fatto noi, banalmente, un approccio assolutamente molto semplice, è quello di mettere all'interno dei singoli PC, all'interno dell'azienda, dei piccoli logger che loggano sostanzialmente il tempo di CPU, quindi più che altro il carico della CPU, il carico di rete, dei singoli PC complessivi, il carico complessivo, e il numero di connessioni che ogni PC ha verso il mondo esterno, o anche verso l'esterno rispetto al PC stesso. Infine anche il numero di input-output di operazioni su disco. Infatti, è facile fare questo tipo di cosa perché basta fare uno script Python, ad esempio, che a intervalli regolari estrae, per esempio in questo caso da un top, un comando top estrae, diciamo, le informazioni di carico della CPU e le manda al nostro Raspberry. Così come si può fare la stessa cosa con il NetSat, stabilendo il numero delle connessioni attualmente attive sull'host in questo caso. Possiamo fare anche un calcolo della quantità di dati complessivi che vengono in ingresso e in uscita e quindi mandarli sempre al nostro Raspberry e la stessa cosa possiamo fare anche col disco, quindi il numero di operazioni di input-output. Quello che otteniamo è questo insieme di dati, per esempio in questo caso stiamo considerando l'utilizzo della CPU e sostanzialmente relativamente ad una singola macchina abbiamo una serie storica, cioè un'evoluzione nel tempo dell'utilizzo della CPU. Così come la stessa cosa sulla rete, l'utilizzo della rete in questo caso abbiamo l'uscita e l'ingresso anzi scusate l'ingresso e l'uscita e anche le operazioni disco per esempio. Ecco, noi vogliamo lavorare su questi quattro spazi, cioè l'utilizzo della CPU, la larghezza di banda del singolo computer, cioè quindi la banda utilizzata, le operazioni di disco e il totale delle connessioni. Quindi stiamo parlando di che cerchiamo di lavorare su uno spazio a quattro dimensioni in questo caso. se li vogliamo proiettare su uno spazio bidimensionale avremo qualcosa di questo tipo che la potremmo identificare in una maniera un po' creativa come una matrice delle decisioni. Se la vediamo vedere in questa maniera abbiamo ecco diciamo quelle in verde sono le aree diciamo di utilizzo normale cioè fin tanto che stiamo in questa area qui siamo considerati abbastanza in una zona abbastanza normale. Se ci avviciniamo alle aree rosse ecco diventa qualcosa di allarmante per cui dovremmo iniziare a fare attenzione sulle possibili sulle possibilità. Ecco per esempio se ad esempio avessimo un caso di utilizzo anomalo della CPU un utilizzo anomalo delle connessioni probabilmente potremmo iniziare a pensare a un denial of service cioè quindi c'è qualcosa che cerca di buttare giù la nostra macchina caricando sovraccaricando connessioni e quindi utilizzo della CPU oppure se ad esempio avessimo un utilizzo fuori media della CPU un utilizzo fuori media del disco potremmo avere un probabile ransomware cioè qualcosa che cerca di criptare i nostri dati e poi chiederci un riscatto per decriptarli siccome la criptazione è un'operazione che richiede CPU e richiede anche input output sul disco in questa maniera potremmo accorgerci analogamente potremmo se avessimo un utilizzo del disco e della LAN in modo esagerato potremmo pensare a un malware che magari è un software quindi messo dentro il nostro computer che sta cercando di mandare fuori dei dati quindi sta cercando di prendere i dati che abbiamo sull'hard disk e mandarceli fuori oppure CPU più LAN quindi sempre un malware che però in questo caso sta cercando di monitorare quello che stiamo facendo cioè quindi cercano di vedere tutte le nostre operazioni che abbiamo che stiamo eseguendo sul nostro computer ecco questo quindi è grossomodo quello che appunto chiamiamo una matrice delle decisioni ovviamente parlavamo di utilizzo fuori media come si fa a utilizzare a capire che stiamo andando fuori media beh il modo più classico è quello lì di usare Gauss cioè questa è una gaussiana normale si intende è una curva che solitamente è centrata sull'elemento più probabile ad esempio in questo caso abbiamo supponiamo che stiamo rilevando all'interno di una stanza gli oggetti che si muovono l'altezza degli oggetti che si muovono ecco se sono due persone ovviamente abbiamo l'altezza media che è circa un metro e settanta poi quindi la campana è centrata su un metro e settanta poi man mano scende fino ad arrivare a due metri oppure scende dall'altro lato fino ad arrivare al metro e cinquanta quindi la probabilità centrata è sul metro e settanta il nostro sistema di machine learning cosa farà? andrà a analizzare i dati e andare a trovare la gaussiana migliore che esprima questi dati nella media quindi c'è una discoteca ha una bobina di tesla fantastico quindi andare a fissare la gaussiana e appunto fare il fit di questa gaussiana in base ai dati studiati e andarla a mettere lì esattamente analogamente se nella nella nostra stanza si muovesse anche ad esempio un cane il nostro sistema siccome sta avvenendo qualcosa di fortemente fuori media lo avvertirebbe subito come anomalia il problema è che noi non lavoriamo quasi mai con una variabile se dovessimo lavorare con l'altezza sarebbe fantastico il problema è che noi lavoriamo su spazi multidimensionali e allora su spazi multidimensionali abbiamo questo abbiamo a che fare con grafici di questo tipo dove abbiamo mutuamente in questo caso un grafico di mutue proiezioni cioè abbiamo le proiezioni a due due di tutte le combinazioni delle variabili in gioco e in questo caso noi possiamo sempre riuscire a trovare i dati anomali i dati che sono esterni a patto che questi dati siano anomali in tutte le proiezioni perché in alcune proiezioni un dato potrebbe sembrare anomali ma in un'altra proiezione invece sarebbe perfettamente in media quindi l'algoritmo sarà in grado poi di andare a estrarre le reali anomalie in base a tutte le variabili in gioco questo comunque complica complica dal punto di vista del calcolo soprattutto ecco quindi nel nostro caso quindi se ad esempio guardiamo l'utilizzo della cpu noi quello che vorremmo andare a fare è identificare è questo cioè le anomalie cioè gli utilizzi anomali cioè questi picchi che sono appunto degli eventi singoli che vengono rilevati bene per far questo in realtà gli algoritmi diciamo usati in statistica e poi importati diciamo nell'ambito machine learning sono le time series cioè o dette anche serie storiche è un argomento questo molto complesso che utilizza funzioni matematiche anche molto complesse che però sono usatissime in molti ambiti dalle previsioni del tempo fino agli andamenti finanziari e perché no anche agli andamenti delle nostre reti quindi di quello che avviene all'interno della nostra rete cosa fanno le serie storiche riescono a cioè gli algoritmi che lavorano con le serie storiche riescono a estrarre i trend per esempio cioè un trend è ad esempio quando un fenomeno indipendentemente da quello che noi possiamo vedere da queste oscillazioni il trend è qualcosa che ci dimostra se il fenomeno è in salita o in discesa per esempio il classico è il global warming io ho visto che l'anno scorso c'era più caldo di quest'anno quindi il global warming non esiste però se mi baso su una sola oscillazione non vedo niente quello che importa è il trend e quindi su quello è l'elemento importante l'altro elemento importante sono le ciclicità cioè quindi vedere ci sono dei fenomeni che avvengono con una certa ciclicità per esempio se avviene una crisi finanziaria la crisi finanziaria avviene immediatamente poi c'è un periodo di delusione un periodo di stagnazione poi una piccola risalita un altro periodo di stagnazione e via dicendo fino ad arrivare alla fine della crisi finanziaria questo è un ciclo quindi è importante riuscire a identificare questi eventi di ciclicità perché così noi li possiamo anche prevedere e aggirare prima ci sono elementi di stagionalità per esempio in questo caso guardate questo è un grafico che riprende tutto il flusso delle nostre telecamere noi abbiamo circa 1200 telecamere in Sicilia il flusso di tutte le nostre telecamere tutto quello viene salvato sui nostri server ok quindi sono queste le operazioni disco sui nostri server come vedete ci sono delle ciclicità giornaliere perché di giorno c'è molta più attività perché le telecamere registrano sul movimento e di notte ce n'è molta meno ovviamente ci sono dei momenti in cui magari c'è un temporale notturno e quindi magari le attività sono comunque sostenute anche di notte quindi cioè al di là di quello che capita è importante stabilire qual è la stagionalità degli eventi e poi c'è l'accidentalità cioè l'elemento anomalo qualcosa che non si che è totalmente fuori da ogni idea precedente quindi quella è quella che dobbiamo cercare di andare a identificare il problema è che le variabili storiche anche queste non dipendono da se stesse ma dipendono anche da altre variabili si parla quindi di mutua correlazione quando si ha a che fare con la mutua correlazione le serie diventano molto più complicate e questo vuol dire che dal punto di vista del calcolo è molto più difficile andare a lavorare con questo tipo di serie e il nostro amico Raspberry difficilmente ci può dare una mano sulle se noi decidiamo di lavorare sulle serie storiche che sarebbe l'approccio classico per la determinazione di questo tipo di problemi e allora ci chiediamo cosa può funzionare cos'altro possiamo utilizzare bene un utilizzo può essere questo un algoritmo che è molto simile a quello che è un algoritmo che già era stato citato con Random Forest prima dell'intervento precedente questa è una piccola variazione di quello che si chiama Isolation Forest il concetto di base è questo questa foto scusate questa foto lo rappresenta la foresta è questa ed è il caso normale cioè tutti gli alberi contigui fra loro sono il caso normale ci sono dei casi in cui c'è qualcosa nel mezzo che li separa ecco queste sono le anomalie quelle chiamate outlier questi sono quelli che dobbiamo andare a identificare e sono specificamente gli utilizzi anomali della nostra rete questo è appunto quello che dobbiamo riuscire a fare l'Isolation Forest funziona così in modo randomico va a scompattare a segmentare il nostro dataset fino ad isolare gli elementi che sono appunto tra loro isolati che sono tra loro diciamo lontani dagli altri e in questo caso quindi riesce a trovare tutti i vari outlier vedendo in questo caso ne trova uno ma poi troverà tutti gli altri e via dicendo questa è la tecnica tra l'altro questo algoritmo è molto più veloce molto più meno esoso dal punto di vista del calcolo quindi su un raspberry può andare perfettamente ovviamente ha dei contro perché mentre sui algoritmi di time series si riesce ad avere molta più precisione su determinati eventi qua è un pochino più grossolana questa diciamo questa analisi quindi da solo l'algoritmo ci dirà che c'è qualcosa di strano però in realtà noi non sappiamo se qualcosa di strano è un effettivo attacco hacker oppure magari che in quel momento il signor Mario Rossi ha deciso di lanciare un programma che fa un utilizzo esagerato di CPU e di LAN allora in questo caso dobbiamo poi fare qualcos'altro che adesso vedremo ed è esattamente questo questa è la classica rete neurale classico classificatore questo tipo di classificatore ha in input questi strati qua poi un insieme di strati nascosti e poi in uscita il nostro output che quindi ci dice se siamo ad esempio in questo caso in caso di preoccupazione oppure no vai tranquillo questo tipo di classificatore funziona bene quando noi troviamo tra il nostro dataset una superficie di separazione che può essere anche più o meno complessa cioè lui riesce a trovare da solo questa superficie di separazione e quindi a quel punto a stabilire se una classe appartiene o meno al caso di pericolo bene complessivamente noi quindi dovremmo fare in questa maniera abbiamo fatto il sample di tutte le varie informazioni di ogni singolo pc che viene mandato al nostro raspberry mediante un algoritmo di random forest scusate di isolation forest riusciamo a trovare tutti gli outlier che sono gli elementi così significativi che dobbiamo attenzionare a quel punto questi elementi significativi vengono passati alla nostra rete neurale la quale rete neurale viene addestrata sull'esperienza cioè quindi noi diamo in questo caso una forniamo alla rete un input diciamo ok questo qui era un pericolo questo no questo no questo sì questo sì via dicendo e quindi la rete a quel punto inizia a imparare dalle nostre esperienze cosa è un pericolo reale e cosa non lo è quindi alla fine avremo ottenuto che l'insieme di tutte queste informazioni classificate prima da questo primo classificatore poi da questo secondo classificatore in uscita ci dà un dato oggettivo sul pericolo o meno nella nostra rete e quindi la manina che esce fuori dallo schermo che ci controlla il computer qualche piccolo riferimento abbiamo il NumPy che è la matrice cioè scusate la la libreria storica di Python per il calcolo matriciale quindi qua trovate tutto quello che vi serve per fare elaborazione di matrici e Skilearn che è la libreria perfettamente compatibile con Raspberry quindi la potete installare semplicemente facendo l'aptget e qui vi dà Skilearn vi dà tutte le informazioni cioè tutti gli algoritmi necessari per scusate tutte le funzioni necessarie per gli algoritmi che vi servono quindi in questo caso di Selection Forest e anche l'implementazione del classificatore neurale che abbiamo visto prima se vogliamo vedere una complessiva visione di Skilearn che in realtà non è non è proprio esaustiva ci sono ancora altre cose che Skilearn riesce a fare ma non sono riportate in questa slide comunque li possiamo suddividere in questa maniera classificazione clustering regressione e dimensional reduction allora la classificazione è quello che abbiamo visto prima cioè riuscire a estrarre dall'informazione in input e stabilire se quell'input fornito appartiene alla classe A alla classe B o alla classe C quindi per esempio attacco hacker o non attacco hacker o addirittura potremmo anche perfezionare e dire attacco hacker sì però magari ransomware magari denial of service magari andare a classificare i singoli eventi ci sono tanti algoritmi che potete usare per la classificazione alcuni sono spiegati qui altri non sono riportati ma ci sono pure in Skilearn tra l'altro Skilearn è continuamente ancora in fase di sviluppo quindi è una libreria che viene aggiornata di volta in volta e trovate sempre nuove funzioni nuove ottimizzazioni il clustering invece è una problematica un po' diversa del machine learning che si occupa di separare il dataset cioè voi avete un dataset e volete raggruppare i vostri elementi i vostri diciamo per esempio supponiamo che avete degli utenti volete come diceva il collega prima volete ad esempio mettere insieme gli utenti similari e far sì che possiate vendere prodotti similari ecco questo è un classico problema di clustering e qui trovate tutti gli altri algoritmi è un po' sfocata questa slide trovate tutti gli altri algoritmi per poterli utilizzare la regressione invece se volete fare delle previsioni di tipo numerico cioè quindi per esempio quale sarà la temperatura prevista per domani ecco questo è un classico problema di regressione e qua avete le altre informazioni poi avete il dimensional reduction che in realtà non è un problema separato da questi tre ma è un problema che aiuta tutti questi tre perché in qualunque algoritmo di machine learning sempre dovete lavorare su dati e dovete cercare di ridurre il vostro sistema qualcosa di più semplice tanto più riuscirete a rendere il vostro sistema semplice con la massima espressività possibile tanto più avrete migliorato i risultati per far questo appunto si usa la dimensional reduction ad esempio una delle classiche delle più classiche è PCA che è la principal component analysis dove ad esempio da una matrice di dati che viene sul vostro dataset tramite questa PCA voi riuscite a estrarre quali sono veramente significativi quali sono realmente importanti quali invece potete tranquillamente ignorare se vogliamo oppure rendere meno prioritario cose che normalmente non riuscite a vedere a vista la cosa importante è questa dal punto di vista guardando i dati così voi non riuscite a capire cosa è importante e cosa no facendo un'analisi di questo tipo invece riuscite a farlo bene qua se volete contattarmi questi sono i miei recapiti quindi se avete anche domande qualcosa da porre potete farlo tranquillamente scusate io sono il fondatore di Machine Learning Italia che è una social community che ormai è diventata una delle più importanti per i tecnici cioè quindi chi ha uno skill diciamo in qualche modo tecnico e quindi non si parla di Terminator lì dentro lì si parla di chi sa lavorare con le matrici chi sa sviluppare qualche qualcosa ovviamente ci sono anche tanti studenti ovviamente c'è anche gente appassionata che magari vorrebbe approfondire quindi potete chiedere potete porre domande e troverete tante risposte a volte tra le sottoscritte risponde quando ho tempo ma ci sono anche tante altre persone disponibili che risponderanno inoltre c'è IAML che è Italian Association for Machine Learning di cui io sono membro che è un altro diciamo grande contenitore che porta avanti iniziative di machine learning in Italia soprattutto di diffusione della conoscenza quindi potete anche qui scrivervi le trovate su facebook le trovate anche su tutti i vari social potete scrivervi e quindi essere aggiornati su tutte le varie diciamo tutti gli articoli tutto ciò che riguarda la scienza l'andamento lo sviluppo di queste tecnologie bene se qualcuno ha delle domande sono qui potete tranquillamente ah? siamo ok siamo andati oltre si sei stato in perfetto grazie a tutti 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 Grazie.